A Mario! Non devi mozzicare la batteria, t'ho detto di prendere i morsetti! Mario, me fai impazzì! Mai quanto i clienti, eh! Poco fa è venuto uno con la jeep, tutto splendido, mi fa Devo fare il tagliando, che me la capo con 50 euro! Bea da te! C'hai la jeep, sei fuori strada! Insomma, Mario, me stavi a dire che hai preso una multa! Ma dove hai posteggiato? Ma quale arcipelago all'isola pedonata! Io direi, poi Mario c'ha la duna, i vigili si saranno accaniti, senti che è verbare! L'autovettura era posteggiata in zona di sosta vietata con l'aggravante che faceva commettere ai pedoni un'illecita inversione ad A! Ma non era U! Ah, no! Nel senso che i pedoni vedevano la duna, facevano A! E tornavano indietro! E c'hanno ragione i vigili! Cari Rai, io la duna la odio! L'altro giorno Mario voleva fare il cambio dell'olio! Gli ho detto, te do un consiglio! Dieta l'olio e cambia la macchina! Te conviene! Insomma, tu dove vorresti andare adesso ho la posta! Non esiste! Tu rimani qui finchè non finisce l'orario di lavoro! La soluzione è facile! Corro! Non nel senso che ci vado io! Nel senso che i corrieri corro, vanno la posta al posto tuo! Corrono! So corrieri! Corrono! In bicicletta! E frappola! No! 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 E frappola! I E Grazie a tutti